Saluto, questo è il videoblog del Finlay per Sanremo. Questo Sanremo, questo festival di Sanremo, com'è? Cosa aggiungereste? Cosa togliereste? Aggiungerei giovani, nuovi salari, nuove cose, nuove proposte, chi ha da dire. Toglierei tutto quello che è sempre la solita roba e tanta gente che è qua, giusto per l'aria fritta. Chiambretti promosso? Chiambretti promosso, un po' cinico negli interventi. Un grande passo avanti, secondo me con questo si consacra un tipo Fiorello, ma dopo Sanremo potrebbe... Beh, però non è un artista come Fiorello. No, non so, però è il David Letterman italiano. Io e Vaudo siamo sempre, la sua porca figura, con Chiambretti promosso. Sono stati figli alcune cose, dicono tutti che c'erano di Sanremo pieno di Brachetti dietro. Ho fatto video di Cipaulio. Poi la cosa migliore è sempre in ballo di capo, in Cielo, nel New Festival. Amo. 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 Amo.